Musica Dopo le stragi di Parigi, anche oggi a Milano due segnalazioni hanno fatto scattare l'allarme. Da ieri sera alla Scala, attivi controlli con Metal Detector. Condanna a quattro mesi per Cristian Malangone, il direttore generale di Expo 2015 S.P.A., nel processo abbreviato scaturito dall'inchiesta a carico, tra gli altri di Roberto Maroni. Oggi sciopero generale di otto ore, indetto dai sindacati di base, si contesta la decisione del governo di offrire solo 16 centesimi in più al giorno per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Domani alla Rettoria San Raffaele, vicinissima al Duomo, l'Arcivescovo di Milano Cardinale Scola, consacrerà il nuovo altare della Chiesa, un'opera moderna ed essenziale. Fino al 28 novembre verranno esposti alcuni paramenti liturgici, tra cui uno rarissimo indossato da San Carlo Borromeo. Buonasera dal TGN, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Come avete sentito dai titoli del nostro sommario proseguono i falsi allarmi a Milano dopo le stragi di venerdì a Parigi. Anche oggi due segnalazioni, mentre da ieri alla Scala sono attivi i controlli con Metal Detector all'ingresso. Sentiamo Massimo Scarinzi. Quattro falsi allarme in poche ore a Milano dopo il recente annuncio dell'FBI di possibili attentati al Duomo e al Teatro alla Scala. Alle 8 di questa mattina è stata segnalata la presenza di un sacchetto della spesa sospetto davanti al consolato americano. All'interno le forze dell'ordine non hanno trovato tritolo ma scatole di tonno e legumi. Alle 10 invece davanti alla clinica Mangiagalli è stato segnalato un uomo apparentemente imbottito di esplosivo. Un altro allarme infondato che arriva poco ore dopo l'evacuazione della fermata della Metro 3 ieri sera in Duomo per un trolley sospetto, mentre in tarda serata in via Vigevano le forze dell'ordine erano state chiamate per un bauletto chiuso con lo scotch che conteneva spazzatura. Insomma, dopo il massacro di Parigi e l'allerta dell'FBI si può parlare di una vera e propria psicosi collettiva a Milano con la città, saldamente controllata da militari e agenti di polizia. Certamente di fronte a quello che vediamo, agli attentati eccetera, l'emozione è tanta e la preoccupazione è molta, però a questo si deve reagire con la testa. Intanto ieri sera alla Scala sono iniziati controlli con Metal Detector, polizia all'ingresso del Piermarini per controllare ogni singolo ingresso. Per la questura di Milano non ci sono pericoli incombenti. In questo momento Palazzo Marino ha assicurato maggiore presidio del territorio. Nei prossimi mesi saranno spesi quasi 2 milioni di euro in più. Una parte servirà ad aumentare la presenza di vigili in strada, mentre 550 mila euro saranno messi a disposizione della questura per le forze di polizia ai quali si aggiungeranno i 640 mila euro previsti per progetti di coesione sociale. Bisogna reagire valutando bene, sapendo che le istituzioni ci sono, dalle istituzioni delle forze di polizia, alle istituzioni nazionali, le forze armate, la polizia locale, che stiamo lavorando giorno e notte per tutelare al massimo la sicurezza di questa città e di tutti i cittadini. La procura di Milano ha chiuso l'indagine a carico di 8 persone, 4 siriani, 2 marocchini e 2 commercialisti italiani per associazione filatizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Avrebbero organizzato dal 2012 viaggi di migranti clandestini dalla Siria in Europa. tra le persone coinvolte, tutte a piede libero, c'è anche un siriano, Abdel Ghanezea, da 26 anni, già indagato per terrorismo internazionale nell'ambito di un'inchiesta su 13 siriani residenti nell'Inter al milanese, 6 dei quali nel 2012 sarebbero partiti dall'Italia per andare a combattere per l'esercito libero siriano contro Assad. Altro nome di spicco è quello di Abu al-Zambassam. Due suoi fratelli sono indagati per associazione con finalità di terrorismo internazionale sempre nella stessa inchiesta ai 13 siriani. Le indagini erano state chiuse lo scorso gennaio e gli inquirenti stanno valutando se formulare la richiesta di rinvio a giudizio e per quali imputazioni. Sono contestate a vario titolo anche una serie di aggressioni nel milanese contro connazionali sostenitori del regime di Assad tra il 2011 e il 2012, tra cui quella ai danni di due titolari di un bar a Cologno, Monzese. In auto a forte velocità ha urtato una rotonda, quindi ha perso il controllo della vettura e ha investito due persone che si trovavano a bordo della strada. In ospedale sono state ricoverate una lucciola della Nigeria e la volontaria antiprostituzione che era con lei. Entrambe sono state accolte con riserva di prognosi per le gravi ferite che hanno riportato subito dopo l'impatto con la vettura. La conducente dell'auto, una 19enne di Bussero, è risultata positiva all'alcol test. L'incidente è accaduto nella serata di ieri in Viale Lombardia a Monza. La ragazza a bordo di un utilitario ha preso all'improvviso un cordolo perdendo il controllo dell'auto. Dopo aver urtato la rotonda ha travolto in pieno le due donne. In un altro incidente a Gambolò, in provincia di Pavia, una anziana di 73 anni è stata investita e uccisa da un agricoltore di 63 anni, residente nello stesso paese, alla guida di una Citroen C6. Ancora cronaca, Cristian Malangone, direttore generale di Expo 2015, SPA, è stato condannato a quattro mesi nel processo abbreviato, scaturito dall'inchiesta a carico tra gli altri di Roberto Maroni, con le presunte pressioni esercitate dal governatore per fare ottenere un lavoro e un viaggio a Tokyo a due sue ex collaboratrici. Cristian Malangone, direttore generale di Expo 2015 SPA, è stato condannato a quattro mesi di carcere nel processo abbreviato, scaturito dall'inchiesta del PM Eugenio Fusco, a carico tra gli altri di Roberto Maroni, con al centro le presunte pressioni esercitate dal governatore Lombardo per far ottenere un lavoro e un viaggio a Tokyo a due sue ex collaboratrici. Per Malangone, accusato di induzione in debita, il PM aveva chiesto sei mesi di reclusione. Per la società Expo, imputata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, la procura aveva chiesto una condanna ad una sanzione pecuniaria di 300.000 euro, ma il GUP ha disposto la soluzione. Il giudice ha rinviato a giudizio, davanti alla decima sezione penale, il presidente di Ferrovie Nord Milano, il leghista Andrea Gibelli, insieme al capo della segreteria di Maroni Giacomo Ciriello e alla ex collaboratrice di Maroni Mara Carluccio. Il primo dicembre inizierà il processo con rito immediato per il presidente Lombardo Roberto Maroni. Secondo l'accusa, il governatore avrebbe voluto che Maria Grazia Paturzo, sua ex collaboratrice con la quale, secondo il PM, aveva una relazione affettiva, fosse inserita nella delegazione della regione per un viaggio a Tokyo nel 2014, nell'ambito The World Expo Tour, e che fosse spesata da Expo 2015. Da qui, secondo l'accusa, le presunte pressioni su Malangone, attraverso Ciriello, e l'accusa di induzione in debita contestata al direttore generale e al governatore. Nel secondo filone dell'inchiesta, Maroni è invece accusato di turbativa libertà nel procedimento di scelta del contraente, perché avrebbe favorito l'assegnazione di un contratto di collaborazione con l'ente Eupolis, Amara Carluccio. In questa tranche, l'ex direttore generale di Eupolis, Alberto Brugnoli, ha già patteggiato. Sarà giudicato con il rito abbreviato Antonino Bilella per il ritrovamento dei sette panetti di hashish nascosti in un secchio della vernice nel fienile di Villa Adwa, a bagno di Gavorrano. Il custode agrigentino, già sotto processo con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere di Francesca Benetti, l'insegnante di Cologno Monzese, scomparsa il 4 novembre del 2013, dovrà rispondere anche della droga trovata nella tenuta. L'udienza si terrà di fronte al giudice per l'udienza preliminare Marco Bilisari l'11 marzo 2016. La pagina sindacale. I sindacati di base hanno incrociato le braccia oggi per uno sciopero generale di otto ore. Cortè in tutta Italia, a Milano i manifestanti si sono mossi da largo Cairoli e hanno ricordato con un flash mob le vittime del terrorismo. L'USB contesta la scelta del governo di offrire soltanto 16 centesimi in più al giorno per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Vediamo. Sciopero nazionale indetto dall'USB contro la legge di stabilità. Questa mattina centinaia di persone hanno sfilato al corteo organizzato dall'Unione Sindacale di base in centro a Milano. I lavoratori si sono mossi alle 10 da largo Cairoli, vigili del fuoco, operatori della Croce Rossa, medici, infermieri, personale, scolastico ed educatrici del Comune di Milano. Queste le categorie più rappresentate dai manifestanti del pubblico impiego. I sindacati di base protestano per il contratto nazionale scaduto da anni e non rinnovato. Le offerte dell'esecutivo sono state giudicate offensive. La proposta di rinnovo arrivata sul tavolo dei sindacati prevede un aumento di 16 centesimi al giorno, in pratica 5 euro in più al mese. E noi ricettiamo al mittente l'aumento di 16 centesimi al giorno. Le chiediamo al governo di guardarsi veramente allo specchio e di vedere quali sono le strutture essenziali per dare una vita democratica e sufficiente a noi e ai nostri figli. Noi abbiamo una sanità che sta scoppiando e costituisce un grave pericolo sia per gli operatori sanitari sia soprattutto per l'utenza che si ritrova ad essere curato da chirurghi, da medici che hanno 13, 14, 15 ore quando non di più sulle spalle. Davanti a Palazzo Marino i manifestanti hanno organizzato un flash mob con un minuto di silenzio per i morti a causa del terrorismo. Momenti di tensione quando i giovani dei centri sociali e del comitato in cui di Nisan Siro hanno appeso uno striscione sulla facciata di Palazzo Marino che contestava la scelta di inserire il nome del parlamentare del Movimento Sociale Italiano, Franco Servello, scomparso nell'agosto 2014 all'interno del famedio del cimitero monumentale. Sarà il comitato organizzativo delle primarie del centro-sinistra a decidere se le consultazioni per scegliere il candidato sindaco di Milano si terranno nel corso di una o due giornate se aumentare il numero di seggi a disposizione. E' quanto emerso dalla riunione di coalizione al centro-sinistra oggi per definire il percorso delle primarie. Il comitato organizzativo potrebbe già riunirsi nei primi giorni della prossima settimana. Pietro Busolati, segretario cittadino del PD, ha spiegato che la durata delle primarie verrà decisa dal comitato organizzativo per favorire una partecipazione più larga possibile. Intanto, secondo Radio Popolare, il sindaco Pisapia, uscente, starebbe riflettendo su una sua ricandidatura sul fronte del centro-destra. Invece oggi c'è stato l'ok del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, sul nome del direttore del giornale Alessandro Sallusti, appunto, a candidato sindaco di Milano per il centro-destra. Ancora cronaca, una diciottenne con ferite è stata portata ieri sera in ospedale in codice rosso, con lei al Fatebene Fratelli, il proprietario di un pub che si trova in via Papiniano a Milano. La giovane, ha spiegato la polizia, è rimasta ferita durante una lite che si è consumata ieri sera nel locale notturno colpita da un bicchiere lanciato per aria. Arrivata al pronto soccorso, la sua situazione era fortunatamente meno grave del previsto ed è stata medicata in codice giallo. Rinviato a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare di Milano, Ilaria De Magistri, un militare della Guardia di Finanza che, per soddisfare la propria curiosità, così ha detto lui, avrebbe raccolto decine di informazioni su amiche, conoscenti e colleghi archiviate nella banca dati del sistema di indagine, il cosiddetto SD, in dotazione alle forze dell'ordine tra le persone spiate, anche Ionella Ligresti, figlia dell'imprenditore Salvatore Ligresti. Il processo si apriera il prossimo 26 febbraio davanti al Tribunale di Lecco, in quanto il reato, secondo l'inchiesta, è stato commesso nella città Lombarda, dove è in servizio il finanziere. Le indagini, coordinate dal PM di Milano Gobbis, sono partite da un esposto presentato da alcuni colleghi che si erano accorti di accessi al sistema che non riguardavano attività di indagini in corso. Interrogato, il fidanziere si era giustificato spiegando di avere agito per curiosità controllando i movimenti di donne e persone con cui era entrato in contatto e anche un personaggio noto come la Ionella Ligresti, accusato di accesso abusivo al sistema informatico, aggravato in quanto commesso da un pubblico ufficiale. In particolare il militare, un brigadiere di 44 anni, per due anni e mezzo avrebbe raccolto illecitamente informazioni come targhe delle auto di ragazze avvenenti, registrazioni in hotele e verifiche sui controlli di polizia. Dati catalogati sul sistema di indagine unico del Ministero dell'Interno in dotazione alle farze dell'ordine a livello nazionale. Si è tenuta a Milano la tradizionale Marcia della Pace dell'Unicef, giunta quest'anno alla sua sedicesima edizione. I bambini hanno bisogno di pace, il tema scelto per l'edizione del 2015. I bambini hanno attraversato le strade del centro blindato per il pericolo terrorismo fino a Piazza San Fedele nel cuore di Milano. In Piazza San Fedele a Milano si è conclusa la sedicesima Marcia della Pace voluta dall'Unicef organizzata insieme ad Arci Ragazzi. Centinaia di alunni di tutte le scuole di Milano e provincia hanno attraversato le strade del centro del capoluogo Lombardo. Un corteo colorato pieno di suoni e immagini con al centro un massaggio forte di estrema attualità. I bambini hanno bisogno di pace. Ad accompagnare la manifestazione le note dell'orchestra multietnica golfo mistico formata da ragazzi provenienti da tutto il mondo. I bambini hanno preparato per mesi questa giornata seguendo un percorso insieme agli insegnanti e lavorando sul tema della pace attraverso un kit didattico fornito da Unicef. In Piazza San Fedele sono stati accolti dalla Giunta di Milano che ha partecipato all'iniziativa. Il messaggio deve essere quello che non possiamo arrenderci, non possiamo cambiare la nostra vita soprattutto non possiamo per i bambini che hanno diritto a vivere in un mondo di pace e quindi noi dobbiamo aiutarli a sentirsi in pace. In un centro di Milano blindato per il pericolo terrorismo con Piazza Scala e Piazza dell'Uomo pattugliate costantemente dall'esercito e da polizie e carabinieri l'Unicef ha ribadito il dramma dei moltissimi bambini in tutto il mondo a cui viene sottratta la felicità dell'infanzia. La paura però continua a crescere rispetto allo scorso anno almeno la metà dei genitori ha preferito tenere lontano i propri figli dal centro di Milano per l'allarme lanciato nei giorni scorsi in seguito agli attentati di Parigi. Avete portato un sacco di bambini in Piazza San Fedele, è un'iniziativa che si ripete e ogni anno siete soddisfatti? Sì, anche se quest'anno chi è venuto ha potuto notare che la piazza non è piena. Un po' di classi si sono ritirate e qualche genitore purtroppo, comprensibile, ma ha avuto un po' paura e quindi non siamo riusciti a portare in piazza tutti quelli che di solito riusciamo a portare. L'Argivescovo di Milano, Cardinale Angelo Scola, domani presso la Rettoria San Raffaele vicinissima al Duomo consacrerà il nuovo altare, un'opera moderna ed essenziale della Chiesa. Nella Rettoria sono esposti per l'occasione fino a sabato 28 novembre alcuni paramenti liturgici, uno di questi è rarissimo ed è stato indossato da San Carlo Borromeo. Sentiamo Anna Maria Braccini. Domani alle 17.15 sarà il Cardinale Scola a consacrare il nuovo altare della Rettoria San Raffaele, in pieno centro a Milano, un'opera moderna ma che ben si inserisce nelle eleganti linee della Chiesa, tardo cinquecentesche, anche se l'esistenza di San Raffaele è attestata storicamente dall'anno 903. Questa Chiesa di San Raffaele che è una delle più antiche chiese di Milano, che è ricca di fede e di storia, abbiamo deciso di dare compimento ai tre poli liturgici secondo le norme liturgiche appunto della riforma stessa conciliare. Particolarmente significativa la riproduzione del cosiddetto Chirò o Crismon con la sua simbologia antichissima. Il simbolo di Crismon è perché questa chiesa nella sua storia è sempre stata legata al Duomo di Milano, qualcuno ancora la chiama la Cappella staccata del Duomo per la celebrazione o per l'adorazione eucaristica. Questo Crismon è il Crismon di Ambrogio che si trova anche nella deambulatoria della cattedrale e l'insieme è esattamente il monogramma di Cristo, la K e la Ro che vuol dire Christos con l'elemento anche orizzontale che serviva come si chiama ad Ambrogio proprio nelle sue catechesi per spiegare Cristo. Chiesa amata da grandi arcivescovi di Milano come San Carlo Borromeo e il beato Giovanni Battista Montini Paolo VI, San Raffaele è luogo dedicato specificatamente all'adorazione eucaristica, un'oasi di pace e di preghiera nella città che in questi giorni e fino a sabato 28 novembre presenta anche una piccola ma interessante mostra costituita da alcune vesti liturgiche tra cui una preziosa casula indossata da San Carlo. Presentata la settima edizione del progetto Life Ability aperto ai giovani tra i 18 e i 30 anni in sette differenti categorie i vincitori avranno garantito un sostegno economico e una borsa di studio potranno attivare un percorso di incubazione di impresa per le loro start up. Vediamo. Borse di studio e stage con cui premiare idee innovative da parte dei giovani e progetti che abbiano uno sfondo etico sociale torna alla sesta edizione del Life Ability Award concorso nazionale rivolto a studenti o lavoratori di età compresa tra i 18 e i 30 anni in sette differenti categorie dall'ambiente ai trasporti dal design alle biotecnologie la nutrizione fino al turismo e l'innovazione sociale. Il nostro obiettivo è che i nostri giovani si pongano un problema sociale e quindi di quello che avviene intorno a noi e di quello che può essere migliorato proponendo delle idee. Se queste idee vengono considerate valide noi li aiutiamo ad entrare nel mondo del lavoro attraverso degli staging azienda o attraverso l'aiuto alla start up. Il premio è nato nel 2009 con l'obiettivo di ricompensare chi propone miglioramenti e semplificazioni pubblici e privati ha visto la partecipazione nel corso degli anni di oltre 600 singoli concorrenti. I vincitori di ognuna delle sette categorie del concorso riceveranno la possibilità di essere inseriti con la loro start up in un incubatore d'impresa insieme ad un sostegno economico e alla disponibilità gratuita di servizi legali, finanziari e risorse umane. L'idea di finanziare i giovani è di introdurli in un incubatore e poi di dargli delle consulenze per poter partire con queste aziende. Ma il discorso fondamentale è che si pongano al problema del sociale e che quindi quando pensano a fare il proprio futuro, pensano a fare qualche cosa, lo facciano nell'interesse proprio ma anche nell'interesse degli altri della comunità. Siamo in chiusura di telegiornale, vi ricordo subito dopo le previsioni del tempo, andrà in onda Nova Stadio Sprint con Jacopo Casoni ovviamente in primo piano il confronto di domani sera a Torino tra Juventus e Milan. Poi alle 20.30 si parlerà di emergenza terrorismo, sono stati arrestati ed è una notizia dell'ultima ora proprio pochi fa due siriani all'aeroporto di Ciampino a Roma, si parlerà appunto di questa emergenza terrorismo a Milano ma in tutta Italia in linea d'ombra il salotto della politica, trasmissione condotta da Adriana Santa Croce. Da Telenova grazie per averci seguito, l'augurio di una serena serata e di un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.